Comunque si concluderanno le elezioni regionali, Michele De Paschale ha già annunciato che si dimetterà da sindaco di Ravenna sia che venga eletto come nuovo presidente della regione, sia che diventi consigliere regionale fra le fila dell'opposizione. In attesa delle elezioni del nuovo sindaco, a Ravenna si aprirà un momento di transizione nel quale sarà tutta la Giunta insieme a portare avanti il programma di mandato e la gestione della città, come hanno spiegato oggi l'assessore Federica Del Conte e Alessandro Barattoni in veste di segretario provinciale del partito. Con i poteri che ha anche oggi e quindi tutte quelle che sono le azioni previste nell'ambito del programma di mandato che il sindaco ha depositato e che ha previsto per il proprio mandato, continueranno portando avanti quelli che sono gli obiettivi del mandato. Dal momento della proclamazione di Michele e di regione fino alle prossime elezioni amministrative che vedremo quando verranno fissate, nella quale la Giunta in maniera collegiale gestirà, come sta facendo anche adesso, tutti gli investimenti e tutte le cose che quotidianamente sta gestendo. Da definire ancora invece se le deleghe attualmente in capo al sindaco come politiche per la salute e PNRR saranno attribuite a qualche assessore o se saranno gestite sempre collegialmente da tutta la Giunta.